Ritiriamo ufficialmente la maglia di Giulio Glorioso e la consegniamo alla famiglia che è rappresentata oggi dal pronipote di Giulio, Riccardo Romano. Prego, vieni al centro. Ciao Riccardo. Riccardo Romano che è un lanciatore di baseball della Lazio e Gianluigi, gli vogliamo chiedere la figura di un familiare così celebre, così iconico, ti ha aiutato, magari sorreggetegli il quadro mentre risponde, anche questo è un trucco perché tu non prendi il microfono. Ti ha ispirato la figura di Giulio? Beh, sicuramente se non fosse stato per lui non mi sarei neanche avvicinato all'ambiente del baseball e innanzitutto per questo lo ringrazio, ma lo ringrazio soprattutto perché è sempre stata una persona che mi ha, oltre che ispirato, mi ha sempre spinto a pensare con la mia testa, mi ha sempre parlato dell'importanza della cultura, io lo vedevo sempre come una sorta di genio, quando parlava era una bella persona, non so che altro aggiunge. Hai detto delle parole che condivido. Aveva un lessico tutto suo, molto particolare e certamente Giulio non era una persona per tutti, no? Da capire. No, no, diciamo era molto vicino alle persone che riteneva meritassero quell'affetto, però anche se in certi casi poteva sembrare una persona, diciamo come dire, distaccata, era sempre presente, lui magari non lo mostrava ma c'era sempre, anche per esempio nel mio caso lui mi portò al campo all'ata acquacetosa e mi disse bene, tu non sei mio nipote, tu sei un ragazzo che mi ha chiesto di provare a giocare a baseball e che abita nel mio palazzo, però poi mi chiedeva sempre come andava, l'allenamento, come, insomma questo. Riccardo Romano ritira per conto della famiglia la maglia numero 33 di Giulio Glorioso che più nessuno indosserà nella nazionale italiana, grazie.